Bene, ci troviamo con il signor Guidi della MyAdvertising. Buongiorno. Il tema degli App Forum è The Web Is. Cos'è per voi? Per noi che siamo una società assolutamente web direi che è tutto. Siamo partiti tre anni fa appunto con MyMovies che è il nostro principale prodotto. Attualmente abbiamo nel network anche il Fatto Quotidiano che è un giornale molto importante che sta avendo un grandissimo successo soprattutto in questo periodo di chiari e scuri politici. Diciamo che siamo abbastanza contenti di poterlo gestire a livello pubblicitario. Non sarà facilissimo ma abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare. È il terzo anno che partecipiamo con MyAds all'OIAB. È sicuramente l'evento più importante del nostro settore quindi non si può non esserci. Poi quest'anno abbiamo visto che l'affluenza sarà grandissima perché ci sono più di 10.000 persone presenti. Ci saranno 10.000 persone presenti quindi siamo ancora più contenti. Il web è tutto davvero. Bene, e progetti per il futuro? Per il futuro contiamo sempre di aumentare il nostro network cercando sempre di rimanere nel nostro ambito. Quindi diciamo noi siamo dedicati all'intrattenimento culturale ci piace dire perché abbiamo tutti i prodotti che hanno queste caratteristiche di informazione e di cultura. Grazie. Grazie. Prego. Arrivederci.